Buongiorno a tutti, domanda difficile. Come posso lasciare andare quella parte del mio passato che non mi permette di evolvere? Domanda che era suggerita dal 6 di coppe, la carta della settimana. Ricordo che era una carta che ci proiettava in modo importantissimo verso il passato, un passato che da un lato può essere visto in modo positivo, fin tanto che non tocca il nostro presente. Parlavamo infatti ieri che la riflessione, che la nostalgia possono anche essere un lavoro attivo, far emergere dei sentimenti positivi, però è altrettanto vero che finché rimaniamo nell'ottica del stavo meglio prima, oppure mi auguro che tutto ritorni come prima, allora questa è la perdita dell'opportunità di progredire, perché nulla rimane fermo. E allora dovevamo lavorare con il nostro passato, ma cosa significava? Da una parte può significare imparare dai nostri errori, da un'altra parte può significare il perdono, ma c'è anche tutta una serie di persone che mi dicono Francesco io ora non ce la faccio a perdonare, mi hanno fatto troppo male, va bene così, non perdonare ora, lascia, datti l'opportunità di andare avanti, lascia perdere, allenta la presa, apri la tua mano, ci ritornerai dopo, quindi lavorare con il proprio passato significa anche semplicemente decidere di andare avanti. Ed è proprio da questa constatazione che nasce il tiraggio di oggi, fatto ovviamente con tutto il mazzo, e vediamo comparire il 5 di spade, il paggio di spade e il 9 di bastoni. La cosa che più colpisce è un paggio di spade che sta guardando verso il 5 di spade, come a dargli importanza. Dov'è il grande problema? Beh il grande problema è che il 5 di spade ci parla di un conflitto, anche piuttosto importante, dato dalla spada rossa, che però il paggio di spade non può sostenere perché è troppo debole, è insicuro, è indeciso, quindi si rischia di voler imporre la nostra idea anche se non abbiamo una base solida per farlo. Ecco perché il tiraggio mi fa chiudere con il 9 di bastoni che indica la stanchezza, si perde troppa energia per imporre un'idea anche se poi sotto sotto non abbiamo né il modo, né la capacità di sostenere questo confronto. E allora credo che per lasciare andare quella parte del passato che non ci permette di evolvere bisogna evitare di imporre la nostra idea nel momento presente e basarci solo su quello che ci viene in modo naturale. È anche interessante vedere, costatare come evolvendo all'interno di questo tiraggio la stanchezza rappresentata dal 9 di bastoni può ricevere un upgrade, diventare un 10 di bastoni, che automaticamente mi diventa l'incontro con qualcuno che invece ci può capire e ci può aiutare. Quindi quella disarmonia rappresentata nel 5 di spade diventa una profonda armonia collaborazione nel 10 di bastoni che subentra una volta lavorato su questo stato di cose. Vi auguro una buonissima settimana.